Faremo un'opposizione responsabile su quelli che sono i temi cittadini, su quali si fanno in futuro nella città di Brindisi. Faremo un'opposizione ovulata, approfondita, con punterazione e riflessione, che sono tutte le caratteristiche che abbiamo sempre connotato nell'approccio ai prodotti. Sarete un'opposizione del marco? Lei sa perfettamente che questa tornata elettorale, la presenza di tutti i candidati, il sindaco ha, come dire, un po' rotto le città del centro-destra. L'augurio è quello, ovviamente, sui valori fondamentali delle libertà individuali, dello sviluppo della pressione fiscale locale, che questo centro-destra possa riportare. belleità personali, come dire, non antepulso a quello che è l'interesse generale, l'interesse generale oggi è la città.